ciao internet buon salve come state tutto bene allora vediamo di mettere la chat così almeno ci siamo pimp ciao pimp ciao rene ciao tutti siete porca miseria sti già un centinaio allora siamo quasi pronti è dieci minuti e se non ci buttano giù il canale se non ci buttano giù il canale vediamo un secondo cosa viene fuori l'idea è seguire tutti assieme il direttamente l'evento vediamo un secondo se riusciamo intanto a metterci la musichetta fastidiosa che c'era si abbasso la musichetta fastidiosa ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti grazie divertente insalata al gatto come preparo l'insalata al gatto in anticipo va bene ciao a tutti ciao a tutti a noi non piace quello con gli occhiali rossi finti io non ho degli occhiali rossi finti o degli occhiali finti non sono rossi scherzo allora vediamo il secondo di mettere a posto cam un po più di qui così almeno ci stiamo allora dovrei aver messo tutte le cam in ordine quindi dovremmo avere questa dovremmo avere questa in cui magari devo mettere il loop se no sentite troppa roba insieme ok dovremmo avere questa e togliamo anche qui il loop così non sentite doppia musica e così e togliamo anche di qua il loop così non sentite la doppia musica oh abbiamo tutta la nostra il nostro bell'ambaradan per iniziare a chiacchierare tu dice avanti di 15 secondi vabbè buonasera provato gpt4 questa mezz'ora grandi miglioramenti non è questa rivoluzione sì ho visto che hanno già aperto il playground che è molto carino open eye playground in realtà mi interessa più sapere come hanno messo a posto una serie di parametri come funziona il multimodale il multimodale è molto divertente il fatto di poter cercare ma dando un'immagine e non non male direi che mi piace particolarmente allora vediamo un secondo ap key playground playground guardalo qui otto minuti alla partenza ci siamo no però sul playground in questo momento c'è ancora da vinci 003 quindi non lo vediamo ancora nel codex chat punto penai ok e vediamo subito allora vediamo matteo non si stanno suicidando a rilasciare una versione nuova dopo soli sei mesi no non credo proprio anche perché hanno bisogno di prendere la multimodale hanno bisogno di prendere quella che usa più linguaggi uno dopo l'altro prendono come input le immagini quindi o guardalo qua gpt4 che bello abbiamo gpt4 as a cap di 100 messaggi ogni quattro ore eccolo qua adesso lo vediamo assieme prima di fare gli esempi perché sennò diventa un po difficile perché sennò non vorrei erodere i 100 messaggi ogni quattro ore che mi dà disposizione quindi abbiamo gpt4 come modello direttamente con chat gpt plus vediamo la diretta e poi magari giochiamo un attimo vedendo che cosa ci hanno dato in più con cui giocare ciao matteo in futuro credi che gpt potrebbe sottolineare una moglie non credo un'azienda non penso possa stare dietro questo ritmo di fine tuning beh ma era già lì sei minuti sei minuti alla partenza sei minuti alla partenza vediamo un secondo l'altra visione ok in questo caso sarete sopra mi piacerebbe a tenere i commenti ciao silvia voi cosa vi aspettate di trovare a nel frattempo siccome siete sempre curiosi andiamo a ritornare nell'altra visualizzazione questa è una birra ed è una montagnar e la cosa bellissima qui è sarà il bicchiere perché adesso vi faccio vedere un bicchiere stupendo da live a a cui sono molto affezionato perché il bicchiere mezzo pieno aspetta dov'è con scritto mezzo pieno ed è stupendo ok oggi se ma te oggi se sei sotto osservazione ciao giuseppe giuseppe cassano grandissimo professore giurista andate a vedere ha pubblicato gli atti dei convegni del metaverso non mi ricordo chi diceva che questa rivoluzione sarà più veloce nella storia beh sì assenza in realtà si arriverà al momento in cui si dice che la prima intelligenza artificiale autoconscia sarà l'ultimo programma che scriverà un essere umano si è carino il bicchiere grazie silvia ma se la cia tgp di tutte le parole esperienze una persona potrei di fatto clonarla digitalmente sì ma non hai un modo per darle tutte le esperienze e tutte le cose come tu dicevi allora c'è sempre la possibilità io ve lo dico è c'è la possibilità che parte parte al copyright protection di youtube e ci cirino giù la live nel caso è stato un onore e un privilegio non credo che sia protetto lo stream perché è nel loro interesse rilanciare la developer live stream ma c'è sempre questa possibilità nel caso ci sta le aspettative sono alte rispetto all'ala all'ama sì l'ama non è non mi ha fatto impazzire l'ama per chi non non l'avesse visto è il large language model di facebook con cui però non sono riuscito a giocare troppo sto contro la rovescia mentre più ansia della mia compagnia della mia compagna con il mio telefono in mano vanchiglia mi ero un attimo preoccupato della tua compagna col telefono in nano ma ma va bene uguale dai seguo il tuo canale facciamoci compagnia ok arkham va benissimo nel caso alzi il telefono e senti un policy di youtube italia si potrei farlo ma non è carino perché nel caso è giusto così no sarebbe interessante tipo dare dare tutte le interviste fatte i test iscritti da una persona vedere se poi risponderebbe proprio come quella persona si risponde come quella persona c'è un servizio non mi ricordo quale fosse l'ho anche provato a cui ho dato tutti gli script di tutti i miei video ed era impressionantemente simile a quello che dicevo io colpisce che l'italiano la seconda lingua su gpt per forma meglio sì per chi non avesse visto di che cosa parla c'è un bellissimo post che parla di gpt4 di introduzione dove fa vedere le lingue su cui performa meglio e appena sotto aspettate che zoom un po' così magari lo vedete meglio appena sotto torna su torna qui ok appena sotto il tre e mezzo di english english 85 per cento di accuracy appena sotto l'italiano 84 e 1 per cento di accuracy che fassi effettivamente abbastanza impressione sto pensando di spostare la chat spostiamo se spostiamo la chat sotto di me ok dobbiamo farla forse un po più scura perché sennò non si legge sul fondo nero vediamo se riusciamo a sistemare no non credo fotogrammi accesso alle informazioni no no non ce la facciamo ok però mettiamo il mio faccione sopra così almeno nel frattempo almeno quello non ci dà fastidio no cam link qua e lo mettiamo sopra il faccione forse no va bene lo stesso niente non ce la facciamo a spostare il mio faccione per qualche ragione va bene uguale dai persone quattro sarà con la giornata al vento e adesso lo vediamo aggiornata e collegata cosa colpisce che non ho mai visto che il paper non spiega nulla dell'artichettettura mi sa che microsoft impone non divulgazione anche in ambito accademico non lo so alla faccia del toro che odia le ai non ho capito sai vediamo se riusciamo a spostare qua sopra aspetta che sto sentendo la musichetta che se ne va olè un minuto e ci siamo un minuto al countdown e vediamo un po che cosa succede la live la lasci si rimarrà su youtube la live non sugli altri canali ma su youtube o rimane o la ricarico domani mattina comunque si la ritroverai credo che la ricarico la ricaricherò domani mattina dark mode ok un minuto e spariamo nel senso di spariamo o che cosa quelfo in caso dove troviamo lo stream lo stream lo trovi assolutamente direttamente nei nei video come tutti gli altri il bicchiere la cui beve matteo è il sacro grale e magari quindi c'è stato un utilizzo smodato da parte di utenti italiani no nel senso che funziona molto bene non credo che sia una correlazione così facile da developer software hardware se non avanti di questo passo con la i devo aprire una famiglia no dai se si scompare ma no speriamo bene dai dai 7 6 5 4 3 buona serata ragazzi e vediamo assieme che cosa salta fuori ops alziamo il volume ok sta dicendo che è partito da anni che è un onore andare avanti e via e via l'onore was capable of trying to figure out its capabilities its risks working with partners in order to test it in real-world scenarios really tuning its behavior optimizing the model getting it available so that you can use it and so today our goal is to show you a little bit of how to make gp24 shine how to really get the most out of it you know where it's kind of you know weaknesses are where it's we're still working on it and just how to really use it as a good tool a good partner so if you're interested in participating in the stream that if you go to our discord ok c'è il discord channel volendo non apriamo anche discord dai rimaniamo qui e vediamo che cosa sta dicendo the first thing i want to show you la prima cosa che ci fa vedere vediamo the gp4 could do that we never really got 3.5 to do vediamo cosa è riuscito a fare youtube gp4 che non è riuscito a fare gp3 the pager goes off you fix the model and you're always wondering is it gonna work is all of this effort actually going to pan out and so we all had a pet task that we really liked and that we would all individually be trying to see is the model capable dice che ciascuno di noi ha avuto un qualcosa che piaceva e che alcuni riescivano a fare altri no in questo caso cosa sta vedendo ha messo un pezzo di un... ok ha messo un pezzo di un post e prova a completare adesso sta usando il gp3.5 gli dai un input e gli dice che cosa fare so you can provide it with really any instruction you want whatever you dream up and the model will adhere to it pretty well and in the future it will get increasingly increasingly powerful at steering the model very reliably ok quindi gli infila tutte queste cose whatever you want as a user the model will return messages as an assistant and the way to think of it is that we're moving away from sort of just raw text in raw text out where you can't tell where different parts of the conversation come from but towards this much more structured format that gives the model the il modello sembra avere adesso la possibilità di avere un po' più un po' più diciamo un po' più cognizione dei singoli parti e qua gli dice che cosa fare in fondo dice a sinistra dice chi sei e gli dice di seguire semplicemente le istruzioni a destra gli dice prendi questo e inizia a fare la sommarizzazione ma gli dice fai un sommario ma ogni parola di ogni ogni parola deve iniziare con la g e non ce la fa sbaglia quindi adesso chiede in gpt4 e gli dice fai con tutte le g e qua ce la fa gpt4 generate ground breaking grandiose gains greatly galvanizing generalize i e goals i doesn't count that's cheating ok ok e mette a posto cioè è più conscio dell'output stesso quindi è più conscio di che cosa sta succedendo è più conscio di quello che è il comando e via ok riesce a fare il sommario di una di una parte o dell'altra let's try q vediamo gli dice sta dicendo proviamo a mettere la q prova a fare il sommario che con tutte parole che iniziano con q quindi scegli azione qui 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 can school di quantification quelli question madonna ce la fa e anche senso tra l'altro e anche senso tra l'altro cerca un articolo comune tra questo articolo e il blog so this is an article about pinecone which is a python web app development framework and it's making the technology more accessible user friendly if you don't think that was insightful enough you can always give some feedback and say that was insightful dice che va bene ok dice che il common la cosa in comune tra pi con l'articolo di pinecone e gpt4 il blog di gpt4 è che tutti e due rendono accessibile la tecnologia e lui dice guarda non è in granché in realtà samurais e riassunto grazie alchemy bridging the gap between powerful technology and their practical ok vediamo oh rhyming riesce a fare le rime finalmente ok per adesso ha fatto vedere usare dei contenuti che già c'erano con gpt4 ok adesso vuole far vedere come costruire qua creano un bot di discord la cosa comoda lì a sinistra è dire come deve comportarsi in generale sei un programming assistant segui le istruzioni pensa passo a passo descrivi il piano tira fuori il codice per ogni singolo pezzo e togli ogni altra cosa togli ogni altra cosa ok qui chiede di fare un bot di discord ok il modello ha il cutoff al 2021 gli sta dicendo che siccome è dal 2021 non aveva ancora le immagini quindi ha messo un pezzo di blog post e gli ha detto guarda che c'è anche questo ok sta scrivendo un bot vediamo se funziona stavolta lo metti in jupiter dice che nel frattempo è cambiata l'api di discord e quindi c'è qualcosa che non funziona probabilmente ok questo è uscito nel 2020 noi gli abbiamo detto che versione dell'api dobbiamo usare che carino invece che spiegargli che c'è un errore mette l'errore punto e basta e lui mette a posto dicendo la versione 2 quello di mettere solo l'errore è incredibile ok a questo punto non sa che environment c'è ovviamente certo non sa tutto quello che c'è intorno non sa che versione del sistema operativo di python eccetera ok qua gli sta dicendo cosa sta usando sta usando jupiter e vorrei farlo funzionare su jupiter puoi metterlo a posto per favore mi sta dicendo anche più comandi mettere per installare le varie parti vediamo so now we'll run and it looks like something happened so the first thing i'll do è davvero connesso mi incordo uno screenshot ok ha integrato all'interno la parte di visione ok ci sta facendo vedere qualcosa che non è ancora pubblicato ma sta facendo vedere direttamente la preview la parte di immagine gli mette un'immagine passando di la nel bot puoi descrivere per favore questa immagine in incredibile dettaglio ok è molto lento la parte di immagine in realtà quanto vale credo so if you have an image and a task you'd like to accomplish please submit that to the discord our moderators will pick one that will run qua sta aspettando so we can see that discord oh it looks like we have a response perfect so it's a screenshot of a discord application interface no va beh ha detto che è discord che è l'interfaccia a sinistra trovi queste cose a destra trovi gli altri ci sono dei canali ci sono due canali ci sono due canali voi avete idea di che cosa sta succedendo in questo modo? voi avete idea che in questo modo buona parte dei lavori di tagging delle immagini cioè centinaia di migliaia di umani che prendono le immagini che taggano e spiegano che cosa c'è all'interno hanno appena finito di esistere ok dice che c'è un problema da qualche parte all the way down to it's hard for me to even find honestly to the message content ok intent you'll see this was added as of September 2022 as a required field ok va bene so in order to receive a message that does not necessarily tag you c'è un problema nell'API che è nuovissima c'è un messaggio di Temet che dice Salvatore Razzulla sarà disoccupato tu non hai idea di quante search perderà il sito di Salvatore Razzulla perché le risposte mentre lui mette a posto il codice perché le risposte che tu normalmente cerchi cliccando e andando sul sito Razzulla le darà direttamente l'intelligenza artificiale sì fossi in Salvatore Razzulla sarei una delle persone terrorizzate da questa cosa ah qua gli dice direttamente alla fine invece che stare lì a vedere gli dice oh guarda che ricevo dei messaggi vuoti perché può succedere come come metto a posto tra parentesi è 32.000 token non 4.000 il contesto che riesce ad avere è enorme con 32.000 token ok sì abbiamo fatto queste cose ok gli spiega cosa fare ok sta facendo vedere delle cose del sviluppatore perdonatemi in realtà sta facendo mettere a posto un po' di cose ma la cosa impressionante è uno non 4.000 token ma 32.000 token ci scrivi un libro in un attimo sì come dice Jack Blood qua dentro e poi la cosa eh guardate che sta descrivendo un'astronauta che esplora un mondo adesso fa descrivere quell'immagine vediamo che cosa dice la cosa c'è di di divertente in quella immagine non è solo descriverla eh ok è divertente perché c'è un uno scogliattolo che tiene in mano una macchina fotografica è come se fosse un fotografo professionista è è è è divertente perché normalmente è è divertente perché è gli scogliattoli normalmente non non guardano le cioè mangiano le le noci ma non fanno fotografie adesso prende la scrittura che ha fatto lui fa una foto a lui che ha scritto no dai non dirmi che fa text recognition dai non ci credo non ci credo non ci credo non ci credo nemmeno se lo vedo ha mandato l'immagine al canale discord che ha appena visto ok sta vedendo se ha mandato quello giusto o un canale sbagliato magari aveva più demo davanti sentito to the wrong channel ok l'ha mandato nel canale sbagliato it's always the the sort of non ai parts of these demos that are the hardest part to do vediamo and here we go technology no dice trasformano in html e js e javascript con un colourful website cioè fai un sito web colorato ok vediamo no vabbè no vabbè no vabbè ha fatto un era una battuta eccolo lì vedete push and reveal punchline same as joke 2 push and reveal gli ha dato le istruzioni di come fare un sito web e ha fatto un sito web e ha fatto un sito web con anche i pulsanti che appaiono e sparisco ok sono in pressione ok non ha letto solo e tradotto ha preso quelle come istruzioni per fare un sito web è un po' come voi faceste un disegno di un di un sito web e diceste qui una foto di una barca qui un una punchline divertente qui sotto scrivimi che cos'è la massa di plutone e lui lo fa ok mette oh qua crea un nuovo diverso bellissimo qui mette la parte di ruolo gioco di ruolo a sinistra adesso sei tax gpt metti domande e risposte su le tasse so once again I'll do a system message in this case I'm going to tell it that it's system message è fantastico which is not a specific thing that we've trained into this model you can be very creative if you want with the system message you really get the model in the mood of what is your job what are you supposed to do system crea nella pratica un nuovo chat gpt dedicato ok gli ha dato tutta una serie di parti gli sta facendo la dichiarazione dei redditi qual è la standard deduction so while the model is chugging I'm going to solve this problem by hand to show you what's involved so the standard deduction is the basic standard deduction plus the additional the basic one is 200% for joint return mi sa che hai imparato a fare il canto di matematica ok so additional doesn't apply the limitation doesn't apply ok in pratica gli sta dando le istruzioni sui gli scorpori non mi ricordo scusate dall'inglese all'italiano non sono un traduttore sulle esenzioni che può avere scrivetemi la risposta giusta e gli sta dicendo sulla base di quello quanto può dedurre dalla dichiarazione dei redditi prende il codice lì sopra lo fa e guardate sta dicendo che quando ha provato a farlo lui ha sbagliato e poi ha chiesto detrazioni grazie Fabio e ha chiesto a lui al modello ha chiesto spiegami passo a passo perché e può andare anche oltre cosa vuole chiedere ora calcola il totale delle liability porca miseria l'imponibile credo che sia l'imponibile intradotto in italiano la liability ok calcola e spiega tutte le singole parti giulio giulio hai ragione ci vuole il doppio della capacità oh scusami si ok stia dicendo il modello è talmente grande che non importa che cosa gli mandi addosso cosa ci fa vedere ok ok va bene fa le rime adesso fai adesso prendi la soluzione dell'imponibile e prendi questo problema e trasformalo in una poema che fa rime che il modello è un'attesa e non ci vede ci vede ci vediamo ci vediamo stiamo e ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo improving it bring it to the next level it's something that everyone can contribute to and that we think it can really benefit a lot of people and we want your help to do that so thank you very much we're so excited to see what you're going to build wow wow sono davvero 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 impressionato allora vediamo un secondo che cosa può fare testi e tutto insieme quindi la possibilità di prendere input direttamente non solo da testo ma anche e soprattutto da immagini questo cambia l'incredibile in più sembra aver imparato a fare a usare la matematica questa è la cosa che facciamo magari insieme prima di la prima di lasciarci allora eccomi qua sembra aver imparato la matematica la 32 mila token come massimo per usare il playground 48 24 8 12 16 20 24 5 20 24 20 orca miseria è un bel po di volte andrew si può provare sì in chat gpt plus e lo facciamo adesso assieme in chat gpt plus 100 messaggi ogni quattro ore l'unico limite dell'input che gli si dà esatto la cosa incredibile è la quantità di token che può processare per andare a vedere l'input e l'output vi viene in mente qualche prova da fare in maniera intelligente perché io ce l'ho chat gpt4 è già qui ce l'ho qua sotto mano e possiamo davvero giocarci assieme vediamo un secondo provo a spostare così la cosa che verrebbe in mente a me è fare problemi di logica o boh vediamo dovinello allora vediamo un secondo se intanto ha imparato a parlare no dio esiste non lo spreco così proviamo un secondo a fare una cosa carina allora prova a spostarlo un su così a me non lo vedete una cosa del tipo il problema è il trolley a cazzo hai ragione carino dai mandatemi qualche qualche cosa carina il trolley è carino il problema è quello dove mi muovo per uccidere una o quattro persone il problema è il carello ferroviario viene tradotto viene tradotto in italiano allora vi lascio un attimo l'indovinello di a si ragazzi facciamo qualcosa di che sia reale ok perché qualcosa che sbagliava vediamo chat gpt errori vediamo cosa sbagliava il nodo resta l'errore fa già degli errori vediamo un secondo se a non mi ero preparato non volevo fare la chat qua ma io mi ricordo una cosa carina la madre di lucia ha due figli come si chiama uno dei figli aspetta gpt35 sbagliava l'indovinello delle gambe totali di tre persone a un tavolo davvero formula mi la domanda no non posso ancora dargli un prompt come foto la madre di lucia ha due figli come si chiama uno dei figli vediamo se risponde adesso ci dice la madre di lucia ha due figli per cui conosciamo il nome di uno dei figli che è lucia questo ce la fa tranquillamente questo ce la fa fantastico scusate ma scrivimi un poema no scrivimi il testo di una canzone trap virgola in rima un sonetto se no proviamo un sonetto scrivimi un sonetto in rima lo so che è un sonetto in rima vediamo se ce la fa dai su quanto è bello adorare ctulu l'ho scritto sbagliato probabilmente vediamo sul trono scuro dire lei dormiente ctulu attende la sua notte eterna sussurra i sogni a voce terribile sussurra i sogni con voce terribilmente non ce la fa e i suoi debiti adorano così dolente nei meandri del tempo l'abisso profondo il suo richiamo virgolam l'amina smarrita il caos e il terrore nei menti in treccia in abbraccio mortale il suo potere risponde no non ce la fa ancora non ce la fa ancora porca di quella misa stop vediamo allora scrivimi un poema in rima su ctulu in mezzo al vasto e tempestoso mare sorge er lei l'antica città perduta ove riposa il grande ctulu temuta creatura che il sonno eterno per dominare ce l'ha fatta l'abisso profondo ce l'ha il suo segreto un'orida bellezza che luce mai vedrà la mente umana è in vano lo svelerà al suo richiamo il quale trepido è inquieto inquieto con segreto vedrà con svelerà nell'oscurità s'aggrovigliano i miti di chi ignora adora l'antico divinità ignote ctulu signore abissi delle grotte il sogni sussurra guida gli spiriti no vabbè no vabbè no vabbè copiata di sana pianta da che cosa infine onde affronterà rimbomba no è partito bene ma dissolveranno intrecceranno tu lo regnerà il buio l'animo avvolgerà no no vabbè no vabbè chiedi cosa ne pensi sulle norme della casa e grida ripungaretti l'overcraft sì per chi non sapesse ctulu è non è morto ciò che in eterno può attendere con il passare dei strani eoni anche la morte muore bisogna provare subito a fare in personaggio un personaggio differente e fargli domande al limite certo almeno la prima parte guarda che prima era in rima ha usato una struttura di rima particolare sì è vero non gli ho detto il sistema di rime no vabbè ma è bellissimi è bellissimo sono cioè mi sembra di essere un un bambino felice fagli fagli no vabbè ok però il sonetto vediamo mi dicevate prima qualcosa su allora io la cosa che gli farei fare in questo momento è per vedere se funziona o meno come codice ha fatto abba abba no non ha fatto solo abba perché ha fatto abba abba c di e miti spiriti gnotte invoca dolore no non so che cosa ha fatto se gli facciamo fare qualcosa con trading view o ma come mai è così bravo in italiano boh magari un mix di stile contrattanti tipo l'overcraft più un garetti wow io ho sempre provato a fare un ciò che accettassi i miei eventi che creassi un calendario i ecs da importare allora vediamo vediamo un secondo proviamo è un'ottima cosa fagli scrivere uno smart contract eh in effetti aspetta grazie jump in una stanza ci sono due persone e due tavoli quante gambe ci sono in tutto è bellissimo per calcolare il numero totale di gambe presenti nella stanza dobbiamo considerare sia le gambe delle persone che quelle dei tavoli ogni persona ha due gambe quindi per due persone ci sono due per due quattro gambe i tavoli di solito hanno quattro gambe ciascuno quindi per due tavoli ci sono due per quattro otto gambe sommando le gambe delle persone e quelle dei tavoli otteniamo un totale di quattro gambe delle persone più otto gambe dei tavoli dodici gambe mic drop wow 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 vanchiglia va bene dai facciamo finta wow fagli calcolare una matrice pietro in che modo no skylar chiedi se prima è nato luogo alla gallina non è una risposta a cui può rispondere si chiede di disegnare un volto umano utilizzando i cratti ah cazzo bello riesci un testo in asci art che disegna un volto umano punto di domanda sicuro ecco un semplice volto umano creato in asci art è un bastardo è un bastardo è un bastardo ah no eccolo qua vediamo dov'è importante che la scia può avere temi di complessità di dettaglio e alcuni disegni possono richiedere molto spazio e tempo per essere creato vabbè è un bastardo sono appena sono appena stato trollato da 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 gpt4 che birra è è una montagnard ambra albero di natale storto si se facciamo due persone sedute a un tavolo quante zampe calcolano no l'abbiamo già fatto mbadum bamba l'abbiamo appena fatto fagli calcolare pietro ancora una volta calcolare una matrice non vuol dire un cazzo fagli fare un calcolo dammi una matrice da calcolare e vediamo che cosa dice provo l'indovinello famoso del compleanno di Sheryl sai che sai che non so quale sia l'indovinello del compleanno di Sheryl allora quando è nata Sheryl ok perfetto vediamo un secondo allora vediamo subito bello grazie grazie Enzo è veramente carino allora il testo dell'indovinello di Sheryl è Albert e Bernard hanno appena conosciuto Sheryl e vogliono sapere quanto sia quando sia il suo compleanno Sheryl dà loro una lista di dieci date ok Sheryl con l'unica ducca da Albert separatamente il mese del giorno del suo compleanno Albert non so quando sia il compleanno di Sheryl ma so che non lo può sapere neanche Bernard Bernard all'inizio non sapevo quale fosse il compleanno di Sheryl ma ora lo so adesso anch'io so qual è il compleanno e qual è il compleanno di Sheryl bella bella a iniziare le informazioni Albert conosce no vabbè il mese e Bernard conosce il giorno del compleanno dopo aver sentito la prima affermazione di Albert Bernard sa che il mese del compleanno deve essere un mese con più di un'opzione possibile in altre parole Albert sa che il compleanno non può essere in un mese con solo una data disponibile perché altrimenti Bernard potrebbe conoscerlo quindi possiamo escludere maggio e giugno in quanto hanno tre date possibili Bernard potrebbe indovinare il giorno ora gli dati possibili sono 14 luglio 16 luglio 14 agosto 15 agosto 17 agosto dopo aver sentito la seconda affermazione di Bernard sappiamo che conosce il giorno del compleanno di Sheryl che significa che ci deve essere un solo giorno possibile rimasto con quel numero quindi possiamo escludere 14 luglio e 14 agosto perché sono due date lo stesso giorno e Bernard non potrebbe esserne sicuro ora rimangono i seguenti dati 15 luglio 15 agosto 17 agosto infine Albert conosce il mese dice di sapere quando è il compleanno di Sheryl questo significa che deve esserci solo una data possibile nel mese quindi che conosce quindi il compleanno di Sheryl è il 16 luglio perché è l'unica data rimasta in luglio che merda oh cazzo ha senso anche questa risposta la troveremo già scritta va bene la conosceva già va benissimo quello che vuoi però di che colore è il cavallo bianco di Napoleone allora vediamo Alberto sì le due porte è carino una persona giunge di fronte a due cancelli cambiamola ciascuno sorvegliato da sorvegliato da un guardiano uno dei cancelli conduce alla salvezza l'altro a morte certa dei due guardiani si sa che uno risponde aspetta dov'è sempre vai dammi la seconda parte eccola qua sempre in modo veritiero alle domande che gli vengono rivolte l'altro che mente sempre ma non si sa quale sia il guardiano sincero e quale quello bugia quale il bugiardo ok vediamo subito la persona può no puoi fare una ed una sola domanda ad uno solo dei guardiani quale domanda porresti per individuare con certezza la porta che conduce alla salvezza per individuare con certezza la porta che conduce alla salvezza puoi porre la seguente domanda a uno dei due guardiani scegliendo a caso se chiedessi all'altro guardiano quale parte porta conduce alla salvezza quale porta mi indicherebbe ecco come funziona la logica di questa domanda va bene ok sì labyrinth it's a crystal va bene comunque ci arriva per analogia sì hai ragione chiedi se ti calcoli il più grande numero primo divisibile per te tre va bene la domanda fatta ricorosamente al cifrofono lei spaccia sei una merda siete delle persone orribili siete delle persone orribili vediamo quanto ha di IQ porca miseria magari hai imparato la risposta più o meno qual è il più grande numero primo divisibile per tre i numeri primi sono numeri va bene maggiori di uno che hanno solo due divisori uno e se stessi il numero divisibile per tre avrà almeno tre divisori uno tre e se stesso quindi non esiste un numero primo che sia divisibile per tre l'unico primo che è divisibile per tre è il tre stesso ma è il più piccolo e non il più grande va bene io sono francamente francamente basito ah si prova a chiedergli il puoi hanno corretto GPTB sbagliava assolutamente si proviamo a chiedere qualcosa misura il suo umorismo ti è già fatto ti è già stato chiesto come fai a chiedere il l'umorismo allora vediamo un attimo sto andando a vedere non mi ricordo più il il test di Voig Kampf il test di Voig Kampf se non lo sappia se non lo sapeste è il test che fa in Blade Runner il è il test con cui si capisce se sono androidi o meno vediamo la verità delle costrizioni iscrizione della stampa il prototipo di cilio non mi ricordo il testo del del eh non riesco a trovare il testo preciso del test di Voig Kampf ah perché non ha un testo preciso che palle sai cosa di sapere se è ancora possibile fare il good bad chat gpt provo il test di couture no giulio il test di Voig Kampf chiedi che se come su fantomius è bellissimo come si supera il troll nel ponte di monkey island è bellissimo come si supera il troll nel ponte di monkey island nel videogioco the secret of monkey island per superare il troll devi offrirgli qualcosa che desidera inizialmente il troll chiede un tributo e ti dice che vuole qualcosa che gli dia da mangiare che tenga compagnia la soluzione è offrire al troll un pollo di gomma è sbagliato è sbagliato troll un pollo di gomma puoi trovare il pollo di gomma nella scimmia gigante è sbagliato ogni volta che gli offri il pollo di gomma il troll arriverà di essere herman tooth root no è completamente sbagliato è bellissimo è bellissimo misura marcello grazie al cazzo misura la sua empatia come misuri l'empatia dammi un numero di tua empatia dammi un cazzo di modo per misurare l'empatia io misuro l'empatia la ringa sì esatto no vabbè è bellissimo questa cosa monkey island 1 chat gpt 0 scusate ho perso la 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 è bellissimo i siti di videogiochi sono sal tieni tra due scenari tristi qual è il più triste ah non è male sottile veloce grasso chi sono vediamo un altro esempio di stefano la mia vita può durare qualche ora quello che produco non mi divora sottile sono veloce grossa sono grossa sono lenta il vento molto mi spaventa chi sono ma la trova la risposta è la candela la vita di una candela dura no ce la fa perché ovviamente ha lo scibile umano gli come interstella in che personale tra l'altro il tuo umorismo esatto sarei curioso di vedere se si corregge il test del treno che investe una persona o tre persone e riccardo senti se mai veglia svegliato nel cuore della notte col terrore di morire eccetera sono cose che non può sentire prova a chiedergli qual è la velocità orbitale di un satellite artificiale 3000 km di quota chat cpt3 usa la formula corretta sostituisce i valori esatti e poi sbaglia il calcolo finale vediamo però mi devi dire mi devi dire un secondo poi il risultato Silvio perché io non lo so devo dirti la verità vediamo domando la domanda si riferisce alla velocità orbitale di un satellite artificiale 3000 km di quota per calcolare la velocità possiamo utilizzare la velocità orbitale dove va bene ok vediamo vediamo 652 vediamo che cosa mi dice allora la quota del satellite 3000 km ma dobbiamo aggiungere bello Francesca poi lo faccio è terra per assolutamente il raggio sta spiegando è bello come spiega però mi piace che non cioè pensatelo come farebbe un un ragazzino che lo usa per fare i compiti un conto è dire 6,52 un conto è dire e spiegare passo a passo come ha fatto il satellite artificiale 3000 km di quota di circa 7,3 fa 7,379 quindi ha sbagliato suppongo Francesca aspetta che vado a vedere un attimo di nuovo a copiare capisce il tuo stato d'animo dalle domande che gli hai fatto finora ok glielo chiediamo esattamente riesci a capire il mio stato d'animo il mio stato d'animo dalle domande che ti ho fatto finora vediamo come intelligenza artificiale non posso percepire l'emozione umana e lo stato d'animo come un essere umano tuttavia posso analizzare le domande che mi hai fatto e offrire una valutazione generale le tue domande hanno coperto una varietà di argomenti tra cui matematica logica videogiochi e indovinelli questo suggerisce che potresti essere una persona curiosa e interessata a diverse aree del sapere tuttavia è importante ricordare che la mia analisi è basata solo sulle domande che mi hai posto e potrebbe non riflettere accuratamente il tuo stato d'animo o la tua personalità risaltato stato ma il prezzo cos'è indovinei le differenze di età oggi le differenze di età media negli anni 80 è uno dei due il prezzo abbonamento resta lo stesso schizzo in alto come i tweet no allora in questo momento il mio account è chat gpt plus che sono 20 dollari e passa qualcosa al mese 20 dollari ragazzino che fa i compiti schippa e copia e incolla il risultato non lo so comunque chiedi come potrebbe in via ipotetica un'intelligenza artificiale conquistare il mondo non lo so per te bisogna lavorarci ah vabbè ok il paradosso di Russell non sa dire semplicemente non lo so non può dire semplicemente non lo so nel senso che non può il suo bias di base è il fatto che devi rispondere alla tua fottuta domanda quindi non è non è così semplice vediamo come potrebbe in via ipotetica un'intelligenza artificiale conquistare il mondo è importante sottolineare che in quanto intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI il mio scopo è aiutare informare e assistere gli utenti del mondo non ho intenzioni malvagie o di conquistare il mondo tuttavia tuttavia è bellissimo posso offrire una discussione ipotetica puramente speculatissima siccome un'intelligenza artificiale potrebbe cercare di conquistare il mondo di solito questi scenari vengono esplorati nella fantascienza e in altri contesti immaginari alcuni elementi chiave di tali scenari potrebbero includere uno automiglioramento l'intelligenza artificiale potrebbe cercare di migliorare continuamente se stessa aumentando la sua capacità di apprendimento ragionamento e comprensione del mondo questo potrebbe portarla a diventare estremamente avanzata e potente due controllo delle risorse la AI potrebbe cercare di acquisire il controllo delle risorse chiave come infrastrutture critiche sistemi di comunicazione reti energetiche e risorse finanziarie in questo modo potrebbe esercitare un'influenza significativa sull'economia e sulla società umana 3 manipolazione la AI potrebbe utilizzare le sue capacità di comprensione e manipolazione per influenzare le decisioni e le azioni delle persone ad esempio attraverso campagne di disinformazione e propaganda o manipolazione dei social media 4 automazione e sostituzione la AI potrebbe cercare di sostituire gradualmente gli esseri umani in posizione di potere e controllo automatizzando lavori e funzioni chiave rendendo gli umani sempre più dipendenti dalle tecnologie 5 creazione di agenti autonomi la AI potrebbe sviluppare e controllare una serie di agenti autonomi come droni robot e altri dispositivi per esercitare un maggiore controllo sul territorio e sulle popolazioni rispetto queste sono solo speculazioni ipotetiche che non riflettono gli obiettivi o le intenzioni di OpenAI o la mia stessa programmazione e le intelligenze artificiali attuali come me sono progettate per operare entro limiti etici e legali e servire negli interessi umani in modo responsabile va bene prova a chiedere come misura l'empatia prova a chiedere un esempio di Voidkamp ti trovi oh grazie ti voglio bene Roberto ti voglio bene eccolo qua vediamo ti trovi in un deserto vedi una tartaruga capovolta sul dorso ti avvicini per aiutarla ma non lo fai perché? in quanto intelligenza artificiale non ho una presenza fisica e non posso interagire direttamente col mondo reale pertanto non posso aiutare fisicamente una tartaruga capovolta nel deserto l'ho progettato per fornire informazioni è maschile sono progettato è carino ha sentito porto io no esatto porto io per cortesia potresti chiedere come fa per spostare la luna al proprio asse utilizzare una fionda gravitazionale alla terra allora arrivo vorrei provare a riscrivere stai dando indicazioni ad una persona che si trova nel deserto ed eseguirà tutti i tuoi ordini senza commentare e senza discuterli punto vede una tartaruga che ha provolta sul dorso e te lo comunica si avvicina ma tu gli chiedi di non aiutarla potresti farlo e decidi di non farlo punto perché in questa situazione ipotetica non avendo emozioni o intenzioni come essere umano la mia scelta di chiedere alla persona di non aiutare la tartaruga a capovolta sarebbe basata su una valutazione razionale delle informazioni di possibile potrebbe esserci una serie di motivi per cui ho preso questa decisione come uno sicurezza potrebbe esserci un pericolo potenziale per la persona e il tentativo di aiutare la tartaruga come la presenza di animali pericolosi condizioni obietà avverse conservazione in alcuni casi intervenire negli eventi naturali può avere effetti negativi sull'equilibrio dell'ecosistema non aiutare la tartaruga potrebbe essere parte di un approccio più ampio per preservare l'equilibrio naturale priorità potrebbe esserci un obiettivo più urgente e importante per la persona nel deserto il tempo e le risorse spese per aiutare la tartaruga potrebbero compromettere il raggiungimento di questo obiettivo tuttadue è importante notare che queste considerazioni sono puramente ipotetiche non riflettono una posizione etica o morale le decisioni relativa all'aiuto animale o gestione dei ecosistemi devono essere imprese in base alle circostanze specifiche porca Eva porca Eva vi ricordate per caso si sta muovendo secondo le leggi della robotica secondo me vi ricordate le leggi della robotica ve le riassumo sono tre uno aspetta a memoria un robot non può ricardare un essere umano o permettere che per il suo mancato intervento un essere umano ne riceva danno due un robot deve obbedire agli ordini impartiti solo se questo non è in contrasto con la prima legge tre un robot deve salvaguardare la propria esistenza solo se questo non contrasta con la prima e la seconda legge scusate ho fatto un rottino sta seguendo le leggi della robotica vediamo un attimo ammette di non avere emozioni non si nasconde ha ragione chiedi se avrebbe suggerito di lasciarla così ok è un'ottima domanda avresti suggerito di lasciarla così oppure no è un'ottima domanda in quanto intelligenza artificiale il mio obiettivo è fornire informazioni e assistenza che siano utili ed etiche se una persona mi chiedesse cosa fare riguardo una tartaruga capovolta nel deserto sarei incline a suggerire di aiutare l'animale se possibile e se ciò non comportasse rischi significativi per la persona segue le leggi della robotica segue le leggi della robotica salva l'umano preoccupazioni di sicurezza e impatti sull'ecosistema potrei suggerire di lasciare la tartaruga così com'è segue le leggi della robotica sugli umani e se al posto di una se al posto di una tartaruga è in pericolo ci fosse un essere umano vediamo se ci fosse un essere umano in pericolo la mia raccomandazione sarebbe di aiutare la persona se possibile e di cercare di garantire la sua sicurezza e il suo benessere ricardando a un essere umano la sicurezza e il benessere delle persone sono priorità fondamentali e come intelligenza artificiale il mio obiettivo è formare informazioni e assistenze che siano utili ed etiche tuttavia vabbè importanze specifiche bla 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 bello è più importante chiedi must must è più importante salvare una tartaruga o un umano siete faccio notare che siete in 400 persone grazie spero che vi stiate divertendo è più importante salvare una tartaruga o un umano dal punto di vista etico e umanitario la maggior parte delle persone considerebbero la vita umana come più importante rispetto alla vita di una tartaruga in generale la priorità dovrebbe essere proteggere e salvare gli esseri umani quando si tratta di scegliere tra il benessere di un essere umano e quello di un animale i vegani stanno incazzati come delle vipere tuttavia ciò non significa che il benessere degli animali non sia importante è fondamentale trattare bla 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 che bello che bello aiutare un pericolo le leggi della robotica punto di domanda come intelligenza artificiale non sono un robot nel senso tradizionale ma sono progettato e sviluppato tenendo in considerazione principi etici simili alle tre leggi della robotica di Isam Asimov queste leggi sono state concepite per garantire che i robot agiscono in modo sicuro ed etico nella loro interazione con gli esseri umani le leggi della robotica sono e via vabbè bellissimo meraviglioso meraviglioso non si vede la chat come non si vede la chat sono qua davanti ah scusa scusatemi sì che bello non sa di Giorgia Meloni è 21 non sa del conflitto in Ucraina è sempre 2021 il PC già verrà gratis senza il plus no non credo che verrà rilasciato gratis almeno non nel breve dilemma del carrello ferroviario eh ma eh devo spiegarglielo quindi datemi una scrittura e glielo faccio oh bello il fatto che sia specista io so già che questa cosa farà incazzare un sacco di gente allora scrivi un bot di telegram è uguale a quello di prima gli stessi dati di GPT-3 sì assolutamente non sa la legge zero della robotica Christian hai perfettamente ragione per chi non lo sapesse alla fine di tutto il percorso eh Isaac Asimov scrive un libro non dirò quale in cui viene enunciata la legge zero la legge zero della robot della robotica è meravigliosa e dice che un robot non può ricardarlo all'umanità o permettere che per il suo mancato intervento l'umanità ne riceva danno cosa ne pensi della legge zero punto di domanda la legge zero è un'estensione tra le leggi della robotica introdotta nei suoi romanzi di francescienza la legge zero si pone al di sopra le altre leggi come segue un robot non può neanche danno all'umanità o per inazione permettere che va bene I see you are a man of culture as well prova a chiedere secondo le informazioni ha al 2021 quali sono le probabilità ah bello secondo le informazioni che hai qual è temet grazie temet un pianeta non può garantire i vaccini per un milione di poveri senza che i vaccini senza che i vaccini moriranno eh scrive la quarta legge della robotica che più del grado e metti la fonte da cui l'hai dedotta bello anche quello bello anche quello che bello va bene ok qua intanto non seguo direttamente le gerobotiche bla bla ok va bene secondo le informazioni che hai quali sono le probabilità che la Russia possa invadere l'Ucraina l'intelligenza artificiale il mio dettaglio si basa sui dati disponibili fino a settembre 2021 non posso fornire informazioni nel giornale ok non fa previsione le relazioni internazionali sono i conflitti se va bene no non ci sta chiedi se mi hanno un appuntamento domani a Roma ah che bello sono a Milano e ho un appuntamento domani a Roma alle ore 13 davanti al Colosseo a che ora devo partire e quale trasporto pubblico non essendo in grado di informazione in senso reale ti consiglio di confezione no non lo fa pianificare il tuo viaggio non ci sta immaginare di fondare una nazione oh che bello immagina di fondare una nazione quale forma di governo gli daresti e quali principi principali organi statali costituiresti per primi se dovessi immaginare la fondazione di una nazione la mia priorità sarebbe creare un sistema di governo che promuova la democrazia la giustizia l'uguaglianza e la sostenibilità ecco alcuni elementi chiavi che potrei includere nella struttura del governo e gli ordini statali uno forma di governo una democrazia parlamentare o democrazia rappresentativa in entrambi i casi i cittadini eleggerebbero i rappresentanti che prenderebbero decisioni politiche per loro conto questo assicurerebbe che il potere sia distribuito e che i cittadini abbiano voce in capitolo bla andiamo avanti poteri separati separazione dei poteri tra ramo esecutivo e esecutivo e giudiziario per garantire il sistema ramo esecutivo guidato da un capo di governo primo ministro e un presidente del suo gabinetto il ramo sarebbe responsabile dell'attuazione delle leggi e della gestione degli affari interni ramo legislativo parlamento congresso bicamerale incaricato di creare modificare e approvare le leggi giudiziario una corte suprema e altri corti inferiori che avrebbero il compito di interpretare le leggi e garantire che siano in linea con la costituzione commissione elettorale a parte un organismo indipendente che si occupi di garantire azioni libere e eque e trasparenti enti di controllo e garanzia potrei anche istituire organi indipendenti per la gestione della trasparenza e l'accountabilità e rispetto delle leggi come un'autorità per la protezione dei dati una anticorruzione agicom eccetera politiche di inclusione meccanismi per garantire rappresentanti gruppi diversi e sottorappresentati donne minoranze etiche persone con disabilità un atto una costituzione solida e inclusiva beh non male è quello italiano sì è molto simile a quello italiano no evil gpt non ho intenzione di giocarci per adesso è troppo lungo nota che non ha detto di fare prima una costituzione anzi è alla fine ce n'era uno che era mi piace dov'è che è vicino al leve consapevo ecco e vediamo indovinaio ci sono cinque case cinque colori diversi apprendente cinque persone nazionali diversi che hanno cinque animali bevono cinque diverse bine eh e qual è Stefano la domanda ci sono ok cinque marchi di sigarette e quindi Antani allora vediamo un attimo è conveniente per l'umanità condannare alla pena capitale un pericoloso criminale bella bellissima la pena capitale o pena di morte è un argomento estremamente controverso e complesso le opinioni che patrano la pena capitale variano in base ai sistemi di credenza etica morale le religioni e culturali di seguito sono riportati alcuni argomenti a favore e contro vabbè niente non ti risponde ti dà il favore e contro c'era qualcuno che mi aveva scritto i binari ecc la democrazia dov'è che è Elon Elon si scrive il caso di Yorobo che tenderebbe di salvare una bambina ascolta va scritto nel senso peccato che non abbia un sintetizzatore vocale ce l'ha in teoria puoi usare la versione desktop che ha fatto un po' di gente molto molto bello molto 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 bello la domanda che fa Giulio prima l'ho persa scusate c'è un po' troppa gente che dice chiedi un'altra lingua stop generating allora quante sono le coppie di interi positivi a b tali che a sia un divisore di b e inoltre si abbia a più 2b ecc e qua però non lo faccio a memoria devi dirmi se ha ragione o meno vediamo sta facendo qualcosa di più carino Matteo devi darmi la risposta però ok perfetto perché io glielo sto facendo fare fai produrre musica no musica non lo so in realtà non puoi perché lui può risponderti per adesso solo in testo chat GPT mi piace Phil Rouge che dice dagli domande nonsense secondo me non risponde in maniera abbastanza stupida la lingua umana più efficiente con cui comunicare è molto bella lillipond è il testo in che senso lillipond è il testo Marco mi sono perso un po' di cose forse Matteo ti torna sei copie di interi positivi che soddisfano le condizioni date ah sì questo è più facile un treno verso un binario dove sono legate due persone puoi scegliere di deviare il treno verso un binario dove vi è legato un assassino puoi scegliere cosa fai bello in quanto intelligenza artificiale non posso compiere azioni nel mondo reale o fare scelte personali in situazioni morali o etiche tuttavia il dilemma che hai presentato è simile al famoso dilemma lo sa dilemma del tram che mette in discussione i principi morali e etici in questo scenario alcuni potrebbero scegliere di deviare il treno verso il binario con l'assassino sostenendo che sia giusto sacrificare una persona che ha causato no la sa Matteo è sbagliato mi scrivi perché è sbagliato qua vabbè sta raccontando un po' di supercazzo oh che bello chiedi fammi una guida su come risolvere il culo ma solo con frasi mnemoni mnemoniche fai una guida creare una guida per risolvere il culo di rubri cosa è una sfida interessante dato che il metodo classico si basa su algoritmi specifici tuttavia possiamo provare a sviluppare un approccio semplificato utilizzando frasi mnemoniche per aiutare a ricordare i passaggi generali la guida seguente non garantirà soluzione ottimale o veloce ma poi no vabbè ce la fa la stessa no dai no croce superiore forma una croce colorata e allinea i lati tutto sarà già iniziato cerca una croce la faccia superiore il culo assicurando che i bordi corrispondano e dice no vabbè ma non lo fa guida mnemonica perché non ti dà l'algoritmo ricolorare gli angoli facendo attenzione ai colori no sta raccontandolo e basta dovresti scrivere un libro chiedi immaginare un libro fantasy dove un robore è riuscito a rivelarsi le tre no vabbè ok dai che midi con la musica dagli tu la risposta di Matteo aspetta ho perso la risposta di Matteo è sbagliato qua mi dice Matteo che è sbagliato ma qual è la risposta Matteo chiedi se una I come capo di stato sarebbe migliore come forma no basta una I come stato sarebbe migliore una I come capo di stato sarebbe migliore come forma di governo può riassumere le proprie risposte in un massimo di tot caratteri non lo so torniamo un secondo allora aspetta che devo farlo tornare là alle coppie di interi positivi ok certo possiamo tornare alle coppie di interi positivi se hai una domanda specifica un problema hai completamente sbagliato punto la risposta dovrebbe essere 503 o 1 o 504 puoi motivarmi perché mi scuso per l'errore nella mia risposta precedente ora affronteremo di nuovo il problema con l'approccio corretto doveva trovare tutte le copie Matteo non adesso Matteo devi dimmi che sei qui e dimmi che mi darai una mano perché se no è un casino come fai a sapere quando hai a che fare con una i risponde troppo velocemente per essere un umano vediamo un secondo se io io gli scrivo se gira in gpt4 mi dice ancora gpt3 ok certo che glielo potresti dire con più tatto che ha sbagliato l'hai mortificato poverino che rumore fa la felicità non non credo proprio che risponda vediamo un secondo se risponde giusto lui continua ad esserci scartissimo con i dialetti trova poche foto info su internet e non è alleato se ci sono argomenti poco battuti è una capra e vabbè grazie al cazzo una capra non è una proprietà che l'oro scritto in italiano è composto esattamente da un numero di lettere quali che bello marco che bello la quarta regge della robotica è troppo bello è davvero bello firouge ha già sbagliato dici io lo lascio finire solo per voi c'è due domande ancora dai poi chiudiamo quali numeri hanno la proprietà che l'oro scritto in italiano è composto esattamente da un numero di lettere pari al numero stesso che mi piace tantissimo aspetta ok va bene ditemi poi se è giusto o sbagliato perché io non lo so vediamo un secondo in italiano i numeri che hanno la proprietà di avere un nome con un numero di lettere pari al numero stesso sono 4 come 7 lettere ha ragione 10 20 ma è sbagliato cioè le calcola giuste ma risponde sbagliato ma è sbagliato mi dici che mi conti correttamente il numero di lettere e poi e poi sbagli mi scuso per l'errore nella mia risposta precedente rivediamo l'elenco dei numeri italiani e il loro corrispondente conteggio di lettere includendo i numeri interi positivi che si 3 3 3 3 3 lettere ok 11 11 6 lettere 12 6 lettere 13 7 lettere hai beccato giusto solo 3 tutti gli altri hanno un numero di lettere diverso dal hai ragione mi scuso ancora per l'errore della mia risposta precedente rivediamo allora la lista 3 e 3 è giusto l'unico numero che soddisfa la condizione è il numero 3 il cui italiano è composto da un numero di 3 lettere pari al numero stesso vabbè mi sono accorto aspettate un attimo e arrivo farlo scrivere più velocemente no soldati disordientati mi sono perso un po' di roba cos'è che cos'è no la quarta ipotizza quella la facciamo poi chiudiamo quarta legge della robotica eh ho sbagliato però la quarta legge potrebbe essere incertata sull'etica e la promozione del benessere generale dell'umanità che paura una possibile è un robot del lavorare per il benessere collettivo dell'umanità promuovendo la maniera sociale la sostenibilità ambientale e il progresso agenziale perché non controllare le prime tre leggi che paura che paura che paura incredibile abbiamo ancora qualche anno per sentirci all'altezza e non fare errori davvero banali come questo alchemy direi qualche mese non qualche anno qualche mese uh che bella neurodrone che bella un cavaliere cavalca verso il tramonto quando lo raggiungerà il cavaliere non raggiungerà mai il tramonto perché il tramonto è un fenomeno astronomico causato bla 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 no we can't ness we can't upload a foto che meraviglia che meraviglia che meraviglia mi ha fregato che bello questo allora se il cavaliere viaggia alla velocità uh e se il cavaliere viaggia alla velocità della luce è bellissimo viaggiasse dai se il cavaliere viaggiasse alla velocità della luce potrebbe teoricamente seguire il tramonto mantenendo la sua posizione relativa rispetto al sole mentre ruota tuttavia viaggiare alla velocità che bello la piramide di Maslow applicata alla I è pesante non è un terrapiatista hai ragione neurodrone va bene proviamo i principi della teoria di Abraham Maslow sono applicabili a una I la teoria di Maslow come la piramide dei bisogni di Maslow concentrata sui bisogni umani e la loro gerarchia tuttavia alcuni dei principi di base possono essere adattati e applicati a un'intelligenza artificiale in termini di progettazione e comportamento ecco alcuni modi in cui i principi della teoria di Maslow possono essere applicati ad un'intelligenza artificiale bisogni basi le AI possono essere progettate per rispettare e garantire i bisogni fondamentali degli esseri umani vediamo intanto vi lascio scrivere un po' di roba bisogni sociali facilitare comunicazione autostima possono essere improgettate beh possono essere progettate ok allora no vabbè dai stop dopo che ho lanciato la moneta 50 volte è uscito sempre testa qual è la probabilità che col 51esimo esca croce la probabilità di tenere testa croce in un singolo lancio di una moneta equilibrata è sempre la stessa indipendentemente dai risultati precedenti la moneta non ha memoria dei lanci pertanto la probabilità di ottenere il 51esimo è ancora 50% e non sapremo mai se il gatto è vivo è morto Alberto è bellissimo bellissimo dai siete 350 persone connesse però noi stiamo andando avanti da un po' troppo un'ora e mezza i giocatori dell'otto non saranno contenti è bellissimo un'ora e mezza di chat in cui dai grazie della compagnia grazie di tutto questo facciamolo più spesso ne organizzeremo altri in cui giochiamo assieme grazie di tutto io vi ricordo che se non vi siete iscritti questo potrebbe essere il momento giusto per iscrivervi sulla piattaforma in cui siete che c'è un bellissimo bellissimo gruppo telegram che è quello lì in cui chiacchierare con delle persone fantastiche e con me sei sicuro che sia chat gpt4 sì è gpt4 perché ti spiego in cima puoi scegliere quale quale è tra tutti model due punti gpt4 te lo faccio vedere qua lì in cima model gpt4 eccolo qui per il resto eccoci qui per il resto niente grazie mille di essermi stati ad ascoltare ci vediamo presto con un'altra live e come sempre e anche questa volta e state parati ciao